non ci credo ragazzi non ci credo 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 di nuovo i playoff ragazzi ci toccano di nuovo i playoff la svizzera che travolge la bulgaria 4 a 0 e passano loro direttamente per i mondiali ragazzi io non ho parole io sono incazzato nero stasera perché io sono uno che l'italia la vive nonostante ovviamente preferisca seguire la mia squadra del club ovviamente la juventus però ragazzi io l'italia l'ho seguita anche in nation's league quando una competizione che magari qualcuno non si cagava neanche io soffro per l'italia e mi dà fastidio che una squadra campione l'europeo ragazzi non si sia riuscita a qualificare i detenenti mondiali in un girone abbastanza abbordabile ok c'era la svizzera squadra forte ma parte la svizzera che avevi ragazzi cioè dai ma veramente non la riconosco più questa squadra non la riconosco più questa squadra dov'è la fame dov'è la grinta dov'è la voglia a livello di qualità ragazzi sappiamo che l'italia non era neanche la più forte ma anche l'europeo ragazzi non eravamo i favoriti abbiamo vinto grazie alla determinazione abbiamo vinto grazie alla voglia al gruppo dov'è sto gruppo ragazzi ma oggi squadra disunita tanti errori senza attaccante ci manca il bomber ragazzi c'è un immobile che ora manca però anche quando è stato belotti anche quando è stato scamacca non è cambiato niente abbiamo messo centimetri davanti ma non è cambiato nulla perché potremmo fare neanche dei cross neanche dei cross riusciamo a fare ragazzi o li facciamo male oppure preferiamo quel cazzo di passaggino corto e poi rimetterà al centro male ragazzi non mi parlate del possesso palla non mi parlate di una partita dominata sul possesso palla il primo tipo perché mi incazzo di brutto perché che possesso palla abbiamo fatto ragazzi nel primo tempo a parte il trio di di lorenzo dove il portiere deve fare una parata ditemi voi le azioni pericose dell'italia devo considerare un tiro a giro d'insigne bloccato facilmente centrale devo considerare un tiro di chiesa bloccato anche lì facilmente centrale un altro tiro sempre centrale tutti i centrali sono stati i primi tiri dell'italia del primo tempo tiri inutili secondo tempo si abbiamo avuto il tiro di di berardi su punizione centrale anche lì non centrale però facile da parare l'unico tiro forse un po più ostico è stato il tiro di chiesa a giro dove la palla esce di poco fuori ragazzi ma anche loro hanno avuto le loro occasioni anche loro hanno avuto le loro occasioni e hanno avuta una dove praticamente Donnarumma deve fare una bella parata l'altra dove praticamente da fuori aria esce di poco la palla e poi ragazzi a tu per tu Donnarumma esce di tu da fuori dai pali a un certo punto ci stavano anche segnando ragazzi se non era per Bonucci che comunque ha coperto la porta e ha fatto la parata con i piedi ragazzi era finita era finita ma perché non sarebbe cambiato nulla per il discorso qualificazione in Italia doveva fare tre gol ragazzi avrebbe dovuto fare tre gol l'Italia eh tre gol per passare perché la Svizzera ha fatti quattro la Svizzera ha fatto una goleada una goleada contro una Bulgaria inutile ed è quello lì il risultato che pesa ragazzi con la Bulgaria quel famoso 1 a 1 dove abbiamo preso un'azione e un gol quello è il risultato che ci pesa oggi quello è vabbè tralasciando i gol di Giorginio sbagliato all'ultimo contro la Svizzera però ragazzi ragazzi ma dov'è la voglia dov'è la fame di quest'Italia dov'è dov'è ragazzi dov'è ci compliciamo la vita ai playoff non sarà semplice perché becchi la Svezia che è una squadra ostica e i fantasmi del passato ragazzi ci ricordano a brutti ricordi c'è il Portogallo di Ronaldo c'è comunque la Polonia di Lewandowski ci potrebbe essere comunque anche o la Norvegia o l'Olanda o non lo so bisogna vedere o la Turchia bisogna vedere chi cazzo passerà in quei gironi ci sono squadre molto forti non è facile il mondiale era molto meglio passare direttamente in questo in questi gironi perché potevamo farcela dovevamo farcela ragazzi dovevamo farcela cioè non non la riconosco più quest'Italia non la riconosco più ragazzi in Italia l'Italia è più brutta da quando c'è Roberto Mancini posso dirlo o una delle più brutte o la più brutta o una delle più brutte ragazzi perché sì perché ho fatto anche un tiro di insignie fuori aria nel secondo tempo abbiamo avuto anche un tiro di Emerson deviato nel secondo tempo fuori aria è crescito da poco fuori all'alto ma ragazzi ma cioè sono piccolezze noi non costruiamo azioni noi a un certo punto perché non c'erano centimetri in campo cioè nel primo tempo tic tac tic tac tic tac e non si crossava perché si sapeva già che comunque andavamo in centimetri c'era insignia falso 9 centrali là davanti ragazzi che altro metto un tappo per carità poveri insigni che poi tra l'altro ha fatto un bellissimo assist appunto per di Lorenzo nel primo tempo dove di Lorenzo stava ha fatto un tiro cross aveva fatto sa che la palla si è venuta in porta e il portiere della parata però ragazzi c'è anche Mancini qui Belotti o magari Scamacca dall'inizio perché un centro avanti che ti occupa di rigore ci serve perché l'Italia quante volte ha crossato oggi ma quante tralasciando comunque che è stata imprecisa tante e uno che a centimetri serviva lì davanti il falso 9 dall'inizio non ha portato a nulla non ha portato a nulla a nulla ragazzi a nulla capisco trasferta ostica pubblico comunque molto coccente quello dell'Ilan del Nord è molto che ti dà la carica una squadra che va detta ragazzi è sicure comunque in unici dietro non è facile segnare perché l'Ilan del Nord da quello che dicono le statistiche ha preso 0 gol in casa propria 0 gol in questo girone 0 non siamo riusciti a segnare neanche noi quindi è una squadra compatta ed è molto brava di partire ma noi siamo l'Italia noi abbiamo vinto l'europeo ragazzi questi qua hanno mezza squadra che gioca nella terza categoria scusatemi il termine inglese cioè è come se per noi fosse la serie C ragazzi è come se per noi fosse la Lega Pro ci rendiamo conto? sì ok magari lì poi il campionato di terza categoria è un po' più avanzato perché comunque li vedo più avanti ragazzi ovviamente non possiamo paragonarli alla nostra Lega Pro perché sembrano più forti però ragazzi poco importa cioè poco importa cioè ragazzi giocavano nella terza divisione inglese ma dovevamo vincere gli occhi chiusi no? stasera la voglia la grinta la fame non è che adesso perché abbiamo vinto l'europeo ragazzi possiamo farcene a verne tutto eh siamo in Italia ragazzi io voglio il mondiale noi dobbiamo avere il mondiale noi viviamo per questa competizione ragazzi la storia insegna Italia quattro mondiali davanti a noi c'è solo il Brasile a cinque quindi noi di questa competizione qua il mondiale viviamo viviamo per il mondiale e non posso neanche immaginare un'Italia di nuovo senza un mondiale mi è bastato già il 2016 ragazzi con ventura vi prego vi prego perché se tu non vai al mondiale e io lo dico qua adesso ragazzi e non mi rimangio le parole che dico se tu non vai qua al mondiale mi spiace dirlo perché poi alla fine la storia ti dirà che quel trofeo tu l'hai vinto ma se tu non vai al mondiale l'anno dopo che hai vinto l'europeo la cosa dell'europeo per me si cancella si cancella si bravi avete vinto l'europeo ok ma se tu non mi vai al mondiale l'anno dopo per me tu offuschi quello che di tanto buono hai fatto prima ok lo offuschi completamente perché perlomeno non ti dico cazzo di vincermi anche il mondiale perché non è che ti voglio chiedere il mondo però mi hai vinto l'europeo almeno vai al mondiale arrivaci al mondiale poi te la giochi però ci devi andare e non è facile ragazzi ai playoff non è facile perché ci sono tante squadre ostiche tante tante squadre ostiche quando tu ripeto potevi tranquillamente passare potevi tranquillamente passare ragazzi un'Italia senza idee senza idee senza idee ragazzi senza idee 5 tiri in porta 5 tiri quasi centrali i tiri più pericolosi sostanzialmente sono stati quelli fuori dalla porta che sono usciti di tanto così il tiro a giro di chiesa è il più pericoloso e la direzione sul tiro di Emerson Palmieri quelle sono le azioni più pericolose dell'Italia tra un po' loro che hanno fatto 3 tiri hanno avuto le azioni più pericolose loro ma sicuramente le hanno avuto più pericolose loro perché comunque loro hanno dovuto fare una parata e Bonucci ha dovuto stavarla sulla linea le azioni più pericolose nonostante abbiamo avuto noi il dominio le hanno avute loro le hanno avute loro ragazzi le hanno avute loro ma ci rendiamo conto io sono nero sono nero 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 non ci posso credere non ci posso credere vabbè ragazzi aspettiamoci questi playoff che ci saranno a marzo tra l'altro anche lì ti devi fare i playoff quindi altri minuti in più sulle gambe quindi anche le nostre squadre di club di tutte le squadre intendo e comunque ne sentiranno perché a quest'ora tu potrai avere delle partite in meno da giocare e adesso invece ce ne avrai in più da giocare perché comunque devi fare i playoff quindi ce lo meritiamo ragazzi eh ce lo meritiamo quest'Italia qua ormai è cambiata ragazzi dal famoso pareggio contro la Bulgaria dove hanno fatto un tiro un gol questi Bulgari perché va detto hanno fatto 1 a 1 da quel pareggio lì ragazzi siamo cambiati siamo cambiati abbiamo fatto 0 a 0 là a Basilea vabbè abbiamo fatto 4 a 0 con la Lituania se non vincivano con la Lituania era Pia da Schiaffi hai fatto 1 a 1 comunque a Roma con la Svizzera e oggi hai fatto 2 a 1 a 0 ragazzi quest'Italia comunque segna poco eh Immobile è uno che dentro anche Immobile è un attaccante che purtroppo non va bene per l'Italia perché fa pochi gol però l'assenza di Immobile si è sentita in questi giorni eh perché Immobile è comunque uno che perlomeno un po' di profondità tra l'alà non ce l'abbiamo avuta noi ragazzi è entrato Belotti non è cambiato nulla 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 è entrato Scamacca che è ancora più centimetri non è cambiato nulla ma perché? perché non sapevamo crossare ragazzi io vi sto a fare dei cross a Berardi e Bernardeschi bruttissimi eh bruttissimi anche se per Berardi tra tutti forse quella è il migliore in campo perché anche Chiesa ragazzi a me è piaciuto eh lo dico anche da Juventino Chiesa che è forte a debolare che è forte a puntare non ha mai puntato una volta ha puntato e ha riuscito a squadrare l'uomo a fine secondo tempo cioè boh boh non lo so ragazzi non lo so io non ho parole potrei stare qua a parlare per tanto tempo però chiudo qua basta non mi voglio allungare perché sono nero in italiano sono nero ragazzi quattro mondiali eh quattro mondiali e noi l'ultimo mondiale non abbiamo partecipato vediamo di partecipare è il prossimo in Qatar vediamo di farlo ragazzi eh perché questa maglia questo logo vive per i mondiali siamo la seconda squadra con più mondiali dopo il Brasile quindi ragazzi mi raccomando eh mi raccomando comunque ragazzi forza azzurri bisogna sostenere la nazionale anche in questi momenti di difficoltà lo so che non si può sempre vincere purtroppo purtroppo però ragazzi qua me lo aspettavo almeno al passo giro del turno me lo aspettavano così non è stato lasciate un bel like se vi è piaciuto mi raccomando commentate qui sotto nei commenti per sapere poi appunto cosa che sta succedendo a quest'Italia fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita nel nord Italia scrivete qui sotto nei commenti ragazzi anche se vi fa piacere mi raccomando iscrivetevi al canale che è importantissimo questo anno vi voglio dire tanto ragazzi se siete iscritti senza cosa nemmeno mi si parte un casino condivete il video con i vostri mi ci fa iscrivere anche loro e attivate la campione notifiche così non perdere i vostri video ragazzi iscrivetevi anche al bar di Fusi Channel vi lascio il link qui sotto in descrizione passate anche dalla sito di Amaya ragazzi è un sito di articoli sportivi dove non ho roba di ottima qualità a poco prezzo se usate il mio codice sconto coupon ALI tutto maiuscolo avete il 15% su tutta la roba che ordinate e se superate il 79 euro di spesa avrete anche la consegna gratuita qui da me è benvenuto ragazzi bella fino alla fine forza azzurri comunque